E quindi il nostro allenamento è finito, è stato difficile, io so, ogni tanto potete sbagliare il braccio, ogni tanto potete sbagliare il respiro, il movimento, questo non significa niente, non importa, dobbiamo lavorare sempre. Per migliorare la qualità dell'allenamento vi consiglio di usare manubri di un chilo, potete usare bottiglie di 0 a 5 litri, quindi sempre in movimento, sempre in movimento, dovete sempre cercare di migliorare il vostro allenamento, sempre cercare di essere molto più agili, molto più attenti. Quindi per migliorare l'effetto io vi consiglio di ripetere questa scheda 2, 3, 4 volte, potete fare 2, 3, 4 volte per settimana, potete fare anche ogni giorno. E' molto compatibile questa scheda con 3 da 25, 4 da 25 addominali più un po' di corsa, ogni giorno potete fare 2, 3 chilometri di corsa e dopodiché fare questa scheda 2, 3 giri. Vi consiglio, ascoltatemi, vi consiglio di fare il mio allenamento, provare e quindi fra poco uscirà anche allenamento numero 3. Oss! Oss! Oss!